buongiorno buongiorno siamo di nuovo in compagnia delle risposte degli angeli la risposta di oggi è nei prossimi mesi ok allora questa vuol dire che nei prossimi mesi nei prossimi giorni nei prossimi tempi succederà qualcosa qualcosa che probabilmente avete chiesto o comunque qualcosa di potrebbe essere anche qualcosa di inaspettato potrebbe essere qualcosa che non vi aspettavate che non non era preventivato ma che vi cambierà completamente la vita ok io credo sia comunque un qualcosa di positivo non ci sono non c'è nulla né a livello vibrazionale né a livello energetico che mi faccia pensare a qualcosa di negativo è sicuramente un qualcosa che succederà da qui a un po di tempo e che vi aiuterà a risolvere diverse situazioni io vi ringrazio vi auguro una splendida giornata